Nonostante il maltempo, non si placa l'ondata di migranti sulle coste pugliesi. Tragedia sfiorata a Porto Cesario, dove nella notte un barcone carico di migranti si è incagliato sulla scogliera dell'isola dei Conigli. Le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto la riva e cercando inutilmente di far perdere le proprie tracce. Alcuni pescatori del posto, intorno alle tre, hanno lanciato l'allarme dopo aver notato la barca lunga 22 metri sugli scogli. Avvertita la guardia costiera di Gallipoli, sono scattati i primi controlli. A bordo delle navi militari non hanno trovato nessuno e hanno cominciato la perlustrazione in mare. Contemporaneamente sono scattate le ricerche a terra, grazie alle quali 89 persone sono state individuate un'ora dopo dalla polizia del commissariato di Nardò nei pressi di Santa Caterina, Marina di Nardò. Si tratta di 11 donne e 78 uomini che si dichiarano pakistani, siriani e palestinesi, apparentemente in buone condizioni di salute, trasferiti nel centro di primissima accoglienza a Don Tonino Bello di Otranto. Anche a Santa Maria al Bagno sono stati individuati una ventina di migranti sempre nella prima mattinata. Sono in corso le indagini per verificare se tra gli immigrati fermati siano presenti gli scafisti, anche se è plausibile che subito dopo lo sbarco siano riuscite ad allontanarsi dal gruppo facendo perdere le proprie tracce.